Il primo settembre 1939 la Germania nazista, invadendo la Polonia, causò l'entrata in guerra di Francia e Gran Bretagna contro di essa, scatenando la seconda guerra mondiale. Il 10 maggio 1940 Adolf Hitler dette il via all'audace piano per la conquista della Francia, che ebbe successo grazie alla tattica della Blitzkrieg, ovvero la guerra a lampo. Questa nuova tattica di guerra prevedeva un ampio uso di mezzi corazzati, supportati dall'aviazione per lo sfondamento delle linee difensive nemiche in zone specifiche e l'avanzata in profondità per minacciare le linee di rifornimento avversarie. Questa innovativa tattica accorse allo sprovvisto i francesi, che rapidamente furono travolti dai tedeschi. Il 10 giugno Mussolini dichiarò l'entrata in guerra dell'Italia e cercò di sfruttare il momento favorevole ordinando di attaccare da sud la Francia, che resistette all'avanzata italiana e si arrese il 22 giugno ai tedeschi. Mussolini, il cui prestigio internazionale veniva oscurato dalla potente ascesa tedesca, desiderava riaffermare l'Italia come potenza militare, prima che gli inglesi avessero cercato una pace con i tedeschi. Egli concepì così l'idea di invadere l'Egitto e la Grecia, nonostante il parere contrario degli alti comandi italiani che consideravano l'Italia non pronta per una guerra. A differenza dell'esercito tedesco infatti, a parte i pochi veterani della guerra civile spagnola, gli alti ufficiali italiani non avevano esperienza nel nuovo genere di guerra, messo a punto dalla Wehrmacht, essendosi formati durante la prima guerra mondiale e nelle recenti guerre coloniali di Libia ed Etiopia. A presidiare il confine tra Libia ed Egitto era stanziata la decima armata italiana, che ammontava a 150.000 uomini, 328 carri armati di cui 256 leggeri e 72 medi, contava inoltre l'appoggio di 336 aerei. La decima armata era composto dal ventunesimo corpo d'armata composto dalle due divisioni di fanteria Marmarica e Cirene, dal ventiduesimo corpo d'armata composto dalla divisione di fanteria Catanzaro e dalla divisione della milizia volontaria 3 gennaio. A questi si aggiungeva la riserva composta dalla prima divisione libica. A questi due corpi si aggiungeva il ventitresimo corpo d'armata, con le divisioni della milizia 28 ottobre e 23 marzo, e la seconda divisione libica. All'inizio del conflitto le due divisioni libiche vennero affiancate dal raggruppamento motorizzato Maletti, che comprendeva quattro battaglioni libici completamente motorizzati, di cui un battaglione di pessimi carri leggeri L3 e uno di scadenti carri medi M11-39. L'esercito italiano presentava purtroppo molte criticità per il conflitto nel teatro nordafricano. Mancava un coordinamento in tre forze, rendendo difficile il supporto aereo necessario all'avanzata delle fanterie in caso di attacco. Mancava una completa motorizzazione delle fanterie, rendendo il movimento delle nostre truppe molto lento. Mancava una catena logistica efficiente, rendendo precaria la situazione del regio esercito con conseguenze negative sul morale delle truppe. Mancavano carri medi qualitativamente competitivi. Il migliore carro italiano all'epoca era infatti il mediocre M13-40. Erano impiegate divisioni della milizia delle camicie nere, cioè volontari con un livello di addestramento molto basso e truppe coloniali che non prevedevano motorizzazione. Mancavano tecnici esperti nell'orientamento notturno nel deserto, il che rendeva molto difficile muoversi ed orientarsi durante la notte desertica. La Gran Bretagna, a difesa dell'Egitto sfortunatamente per le ambizioni di Mussolini, schierava uno dei suoi corpi migliori, la Western Desert Force, al comando del generale O'Connor. La Western Desert Force era un corpo composto da una divisione di fanteria indiana e dalla settima divisione corazzata, composto da sei reggimenti completamente corazzati. Tre di questi erano il secondo e il sesto reggimento di Carri Cruiser e il settimo composto dai recentemente arrivati Matilda, che presentavano una corazzatura frontale impenetrabile dalle armi anticario italiane nel 1940. Gli altri tre reggimenti formavano la settima brigata corazzata, composto da truppe montate su autoblindo. Era inoltre stata mobilitata la sesta divisione di fanteria australiana per rinforzare il corpo. Complessivamente la Western Desert Force ammontava 31.000 uomini, 145 carri leggeri, 80 carri Medi Cruiser e 52 carri Medi Matilda, oltre che 142 aerei. Seppure i numeri erano favorevoli agli italiani, la Western Desert Force era un corpo ottimamente addestrato e modernamente armato, che aveva sviluppato tattiche operative proprie utilizzando i carri pesanti Matilda in appoggio alla fanteria per lo sfondamento delle linee nemiche e i più cruiser per le azioni ad ampio raggio. L'esercito britannico, oltre all'addestramento, era eccellentemente rifornito e guidato da generali esperti e professionali. Godeva inoltre di un'ottima coordinazione in perforze, che permise nel corso degli eventi successivi di combinare molto bene gli sforzi di marina, aeronautica ed esercito per affrontare gli italiani. Gli inglesi avevano altresì un eccellente servizio di intelligence, che fornirà dettagliata informazioni sulle posizioni italiane per tutto il conflitto. Mussolini dunque invitò più volte Graziani ad invadere l'Egitto, ma Graziani indugiava, lamentando l'impreparazione dell'esercito italiano alla missione assegnateli. Egli desiderava l'invio di altri reparti corazzati con gli ultimi carri armati M13-40. Mussolini ordinò infine al proprio capo di Stato Maggiore di intervenire non oltre il 9 settembre. Fu così che il 9 settembre iniziò l'invasione italiana dell'Egitto. Gli italiani avanzarono per oltre 100 chilometri, occupando la località di Sidi el-Barrani il 16 settembre, mentre i britannici decisero di attestarsi a Marsa Matru, in attesa dell'attacco italiano. Mussolini desiderava che l'avanzata continuasse, perché aveva stabilito di invadere la Grecia ad ottobre, ma Graziani, che dirigeva le operazioni da Cirene, quindi ben lontano dalle prime linee, rinviò le operazioni fino a dicembre, lamentando la carenza di automezzi necessari. Gli italiani si fortificarono quindi tra Sidi el-Barrani, el-Matquila e Bir-Sofavi. I corpi libici erano schierati tra el-Matquila e Nibewa, dove si trovava il raggruppamento motorizzato del generale Pietro Maletti. Più a destra di Maletti era schierata la divisione Cirene di truppe nazionali, più indietro erano schierate le divisioni di camice nere 3 gennaio, che occupava Sidi el-Barrani e la divisione del reggio esercito Catanzaro. Nelle retrovie erano disposte la divisione del reggio esercito Marmarica e presso Solum la divisione camice nere 28 ottobre. Contrariamente alle allora moderne tattiche di guerra, la brigata motorizzata a Babini fu posta nelle retrovie, come riserva strategica, nella realtà impossibilitata a supportare qualche sia reparto in difficoltà. L'esercito italiano appariva così schierato su diverse posizioni fortificate sufficientemente lontane le une dalle altre per non potersi dare manforte in caso di necessità, in una condizione logistica precaria a seguito dell'allungamento delle proprie linee di rifornimento. Durante questa fase Graziani organizzò una nuova avanzata verso Marsa Matru per metà dicembre e rifiutò inoltre l'aiuto dell'alleato tedesco che si proponeva l'invio di due divisioni corazzate in Africa. L'offensiva italiana era in preparazione quando una terribile notizia sconvolse i comandi italiani. Tra il 7 e l'8 dicembre del 1940 gli inglesi avevano dato il via all'operazione Compass, muovendo nella notte oltre 10.000 veicoli che avanzarono per 113 chilometri da Marsa Matru verso Nibewa, mentre la prima divisione libica subiva il bombardamento di due camminiere della Royal Navy mentre un'altra nave inglese bombardava Siliel Barrani. All'alba dell'8 dicembre il 7 Royal Tank Regiment armato di carri Matilda e due battaglioni indiani travolsero gli italo-libici di Maletti, sbaragliando i 22 carri M11 mal posizionati nelle difese italiane. Conquistato il campo gli inglesi rifornirono i propri mezzi di carburante e verso mezzogiorno ripartirono all'attacco delle posizioni occupate dalla seconda divisione libica a Tummar, i cui occupanti affrontarono con una trentina di carri leggeri L da 3 tonnellate i Matilda inglesi da 26 tonnellate. Fu una battaglia impari e rapidamente la divisione libica capitolò. Mentre tutto questo accadeva, le brigate corazzate inglesi più veloci avevano proceduto a tagliare le linee di rifornimento italiane, tagliando la strada che da Siliel Barrani portava a Bug Bug. O'Connor teneva la situazione sotto controllo, dirigendo le operazioni dalla prima linea, mentre Graziani, colpevolmente distante dal fronte, non riusciva a decifrare la situazione della decima armata. Il generale Gallina, al comando della prima divisione libica e resosi conto della precarietà della propria situazione, decise di ritirarsi verso Sidi e il Barrani tra il 9 e il 10 dicembre. Sidi e il Barrani fu a questo punto attaccata da ogni lato e nonostante la resistenza canita delle camicie nere e del primo libico, la piazza forte cadde la sera del 10 dicembre. A questo punto Graziani ordinò alle divisioni Cirene e Catanzaro di ripiegare lungo la linea Sullum al-Faya. La divisione Catanzaro perse i due terzi dei propri effettivi durante la ritirata, per via degli scontri che sostenne contro i reparti avanzati della settima brigata corazzata. Il 12 dicembre gli italiani disponevano della divisione 28 ottobre tra Sollum e Al-Faya e la divisione marmarica da Al-Faya a Gabr-Bufares, alle cui spalle si era schierata la divisione Cirene. A nord di Sollum era disposta la 23 marzo, mentre il terzo battaglione corazzato della brigata Babini era stato disposto tra Sollum e Al-Faya. Gli inglesi avevano a questo punto catturato 20.000 italiani, preso o distrutto 180 cannoni e 65 carri armati medi e leggeri, perdendo 600 uomini. Vista la stanchezza della divisione indiana, O'Connor decise di rimpiazzarla con quella australiana. La pressione inglese continuò presso il passo dell'Al-Faya e alle truppe italiane fu ordinato di ripiegare verso Bardia, che fu raggiunta il 16. Graziani stava commettendo un errore dietro l'altro. Dapprima aveva sparpagliato l'esercito in più piazze forti e ora che l'esercito italiano stava fuggendo lo convogliava verso una piazza permettendo agli inglesi di sferrare il colpo di Grazia alle armate italiane. Il 20 dicembre gli inglesi accerchiarono Bardia. Il 3 gennaio iniziò l'assalto del caposaldo e il 6 gennaio il caposaldo si arrese. Gli inglesi anche qui catturarono 40.000 soldati italiani, 430 cannoni, 13 carri medi, 117 carri leggeri e circa 350 camion. Gli italiani in Cirenaica avevano oramai rimasto tre divisioni, la Sirte, la Sabrata ed inoltre era ancora presente la brigata corazzata Mechili. Il 9 gennaio Tobruk fu circondata e i 25.000 italiani del 22esimo corpo d'armata al comando del generale Pitassi Mannella attendevano il loro destino. O'Connor attaccò il 21 gennaio e il 22 gennaio Tobruk cad. Gli inglesi ora avevano fretta di arrivare a Benghazi poiché Mussolini, visti i pessimi sviluppi delle operazioni in Nordafrica ed in Grecia, aveva accettato l'aiuto tedesco nei due teatri che vedevano impiegate le truppe italiane. Il 24 gennaio un battaglione corazzato della brigata Babini respinse l'avanguardia della quarta brigata corazzata inglese presso Mechili, dimostrando come opportunamente armate e guidate le truppe italiane fossero all'altezza dei reparti corazzati inglesi. Il 27 gennaio la diciannovesima brigata australiana partì all'attacco di Derna mentre O'Connor occupava Mechili lasciata libera dalle truppe italiane. Tra il 2 e il 6 febbraio i difensori di Derna decisero di ritirarsi verso Benghazi. O'Connor decise di chiedere un ultimo sforzo alla sua estremata settima divisione corazzata puntando a tagliare la ritirata dei resti dell'esercito italiano per Benghazi. Un distaccamento della settima divisione fu inviato ad occupare la strada tra Benghazi e Tripoli. I comandi italiani erano allo sbando non avendo mezzi per opporsi all'accerchiamento inglese e si arresero agli avversari. Il 7 febbraio terminò l'operazione Compass i cui numeri furono drammatici di conseguenze per l'Italia. Gli inglesi erano avanzati di 800 chilometri catturando almeno 110.000 prigionieri fra italiani e libici, 400 carri armati italiani e 1290 pezzi d'artiglieria che furono distrutti o catturati assieme ad un enorme bottino di guerra composto di materiale bellico e rifornimenti. In poco tempo il regime fascista italiano aveva svelato il proprio bluff. La martellante propaganda italiana aveva infatti convinto il paese di essere una grande potenza militare ma la realtà aveva presentato il proprio doloroso conto. La combinazione di comandanti militari scelti tra quelli più compiacenti al regime fascista piuttosto che tra i più preparati, tattiche di guerra superate e armamenti obsoleti avevano svelato al mondo la reale entità dell'apparato bellico italiano. La sconfitta decretò la fine della guerra parallela italiana, cioè una guerra condotta dall'Italia senza il supporto tedesco. Per l'esercito reggio iniziava il periodo della guerra subalterna, un periodo cioè in cui le forze italiane saranno poste sotto il comando dello stato maggiore tedesco che ne gestirà l'impiego all'interno della propria strategia. Grazie. Grazie.